No, veramente, guarda, a me il ranzio degli insetti dà molto fastidio, veramente, soprattutto quando sto parlando. Comunque c'è un insetto che mi è particolarmente simpatico, e si chiama Bombi. Ma perché state ridendo? Ma perché state ridendo? Non avete mai sentito parlare del Bombi? Ah, si chiama Bombo? Ma io lo chiamo Bombi, è più simpatico. Dicevo, questo insetto è molto simpatico, baffutello, soprattutto a forma di digeribile. Non volevo dire dirigibile, un piccolo dirigibile, diciamo. Comunque, diciamo che la sua timprica è veramente mistica, e riassume naturalmente tutto il senso della natura. Quindi diciamo che il Bombi è una straordinaria creatura. Comunque, adesso me ne devo andare, volevo soltanto dire un'altra cosa. Cari miei, dovete sapere che io non ho soltanto un orecchio fino, ma ho anche un'altra cosa molto fina. Ma cosa state pensando? Ma no, 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 veramente, no? Siete dei maliziosi. Volevo dire che oltre all'orecchio fino ho anche l'occhio fino, però per favore non mi fate invertire le parole, cioè non mi fate mettere fino prima di occhio. Ci siamo capiti. Un saluto dal vostro Cristiano. E naturalmente seguitemi su tale quale show. Grazie. Grazie.